In vantaggio sul candidato grillino fin dall'inizio dello spoglio, Nello Musumeci, candidato del centrodestra, è stato eletto nuovo governatore della Sicilia. Un successo personale e della coalizione che era stato anticipato dai pronostici degli ex Pol. Nello Musumeci conquista il 39,8% contro il 34,6% di cancelleri. Al terzo posto il candidato del centrosinistra Fabrizio Micari, sostenuto come noto anche dal ministro agrigentino Ancelino Alfano con il 18,6%. Seguono Claudio Fava con il 6,1% e ultimo con appena lo 0,7% Roberto Larrosa, candidato dei siciliani liberi. Tornando al successo di Musumeci, Giorgia Meloni ha ribadito come il patto dell'arancino, sancito a Catania, abbia funzionato perfettamente. Per la cronaca diciamo che il Movimento 5 Stelle non ha perso l'occasione per attaccare la stampa. Per Giancarlo Cancelleri, deluso per non essere riuscito ovviamente nell'impresa, la vittoria di Musumeci sarebbe infatti contaminata dalla complicità dei media. Continueremo a portarlo avanti il nostro programma e cercheremo in qualunque modo di farne approvare una parte o di farlo approvare tutto. In precedenza vi era stato un episodio all'interno di un ristorante di Palermo che la dice lunga proprio sul rapporto tra grillini e organi di informazione, un rapporto che è sempre insanabile e che non aiuta certo il dialogo. Da registrare intanto la soddisfazione di Claudio Fava per il ritorno della sinistra al Parlamento siciliano. Dopo 11 anni la sinistra torna al Parlamento regionale siciliano. Non è il risultato che ci saremmo aspettati quello sulla presidenza ma come sapete anche voi abbiamo registrato un repentino cambio di rotta una settimana fa. Per quanto riguarda i candidati alla presidenza della regione in provincia di Agrigento Cancelleri ha superato Nello Musumeci ma si tratta dell'unica provincia dove questo dato si è registrato. Per il resto i numeri a favore del neogovernatore parlano chiaro.